Annunciare o fare, amici miei? Secondo voi è più importante annunciare o fare? Secondo me è più importante innanzitutto fare e poi annunciare che si è fatto. Ma viviamo stagioni poco serie in cui vale più l'annuncio che la realizzazione di quello che si annuncia. Vale più l'impatto della promessa più che il mantenimento della promessa. E intanto non cambia niente quando si dice che si vuole cambiare tutto, gatto pardescamente parlando.